Ma come cazzo se fa? Come cazzo se fa? Ma come cazzo se fa? Ma come cazzo se fa? Eh, come se cazzo se fa? Come cazzo se fa? Come cazzo se fa? Come cazzo se fa? Siete scandalosi, siete scandalosi Scandalosi siete E non dico altro Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Qui a Giapazzo oggi Siamo di nuovo qui ragazzi in un nuovo video Mi scuso per l'assenza di questi giorni Non ho portato video, ho portato solamente due live Mi scuso ancora di cuore Spero che voi ancora mi seguiate E appunto Lascerete per almeno la mia gioia Un mi piace, almeno per me fatelo Perché veramente questi giocatori meritano Veramente gli insulti Stasera veramente non si salva a nessuno Mi raccomando, lasciate un mi piace Un commento, voglio sapere la vostra Ditemi la vostra Su tutti i giocatori E ditemi come Secondo voi chi è stato il giocatore più inguardabile Perché stasera tutti male hanno giocato Ditemi secondo voi chi è stato il più inguardabile E se vi va ragazzi Iscrivetevi al sito nuovo E azione della campanellina Degli aggiornamenti mi raccomando In settimana ci sono sempre delle live Mi scuso se sto portando pochi video In settimana prossima porterò nuovi video Quindi scusatemi ragazzi Se l'assenza si è fatta sentire Pure sul calciomercato Dovrò parlare anche del calciomercato della Roma Quindi rimanete attivi Che ne parlerò in settimana Farò un video apposito partendo il paggellone del calciomercato della Roma E appunto seguitemi sui social se vi va Sempre il link è in descrizione Parlando della partita di oggi Parlando della partita di oggi Voi siete Siete scandalosi Siete scandalosi Siete scandalosi 3-0 dopo 20 minuti 3-0 per il Sassuolo Non succedeva Non succedeva dal 2012 2013 o 2012 Contro la Juventus Qualcosa di scandaloso Io voglio sapere Ma la testa dove l'avete messa? Avete fatto una buca dopo il derby? Dopo l'all derby avete fatto una buca Avete preso le vostre teste E l'avete messa sotto terra Veramente scandalosi Come si fa? Come si fa? A parte che oggi il Sassuolo sembrava veramente Il Barcellona Della famosa MSN Messi-Nemar Suarez Veramente Berardi come Messi Caputo in versione Suarez Fa doppietta Cioè veramente Boga è qualcosa di assurdo Quel giocatore è veramente forte Mi domando come faccio a giocare ancora il Sassuolo Cioè se Boga dovrebbe giocare squadre top Tipo Tottenham Tipo Barcellona Tipo Cioè non è che lo stai saltà Però Però la squadra A parte che noi siamo stati veramente Uno scolapasta in difesa Uno scolapasta Lo scolapasta che c'è a casa Quello La difesa della Roma di oggi Scolava più la pasta La difesa della Roma Che lo scolapasta mio Veramente uno scandalo Cristante Cristante Ti devi togliere dalle palle E tu pure Fonseca Purtroppo c'è Di avrà infortunato Meglio Metti Villar Il nuovo giocatore arrivato Perché Cristante Mi ha rotto le scatole E rallenta La stessa manovra di gioco E rallenta la stessa manovra Desta ceppa Cristante Mancini inguardabile Mancini veramente Oggi Oggi non c'era Ma i mancini ragazzi Avete visto Mancini È peggiore in campo Secondo me E poi Io mi domando Allora ok Kolarov Non sta facendo bene Panchiniamolo Non questa partita Non puoi mettere a marcar Sant'Onno contro Boga Ma come si fa Pure Fonseca mi ha fatto Arrabbia oggi Perché porca miseria Non mi puoi mettere Sant'Onno su Boga Cioè questo ci dovevi arrivare Come l'anno scorso Due anni fa Di Francesco Che mi ha difeso a tre Contro il Barcellona No contro chi era Contro il Liverpool La difesa a tre Cioè veramente Un suicidio Un suicidio Un suicidio Quello di oggi È stato un suicidio In campo Gli unici che Si salvano Paolo Lopez Che se non era Paolo Lopez In questa partita Finiva 7-0 Per il Sassuolo 7-2 anzi Perché è finita 4-2 risultato E se non era Per Spinazzola Ha fatto il suo Come al solito Forse uno dei migliori In campo Spinazzola Mi è piaciuto L'unico che mi è piaciuto È Bruno Perez Da subentrato Mi è piaciuto anche Per il resto Uno schifo Totale Cioè dobbiamo Dobbiamo veramente Quando è ritiro Dopo sta partita Dobbiamo fare un ritiro Un ritiro spirituale Perché la testa Non ce l'avevamo proprio Oggi Primo tempo Uno dei più brutti Primo tempi Che abbia mai visto Cioè anzi Una delle peggiori Partite della Roma Veramente Difensivamente parlando Penso la peggiore La peggiore di quest'anno Parlando dei gol Parliamo dei gol Primo gol Arriva dopo Dopo pochissimi minuti Arriva il gol Di Ciccio Caputo Non so dove Tra Mancini e Sant'Onno Non so oggi Quello che hanno fatto In difesa Smalling Diciamo che Non è che mi è piaciuto Tanto Manco Smalling Però Nel complesso È stato uno Di meno peggio Insieme a Spinazzola Non ha giocato Una migliore Diciamo Ha giocato partite Molto migliori Rispetto a questa E poi Il 2 a 0 Arriva a doppietta Di Ciccio Caputo Ovviamente Al fantacalcio Lo ho lasciato in panchina E mi pare strano Che lo lasciavo in panchina Dopo 755 Consecutivi Che prendeva Caputo Io lo metto in panchina E segna Vabbè Non parlando Di fantacalcio Comunque abbiamo preso Due gol Da Da Polli Veramente Da Caputo Che non segnava Da dieci giornate Veramente assurdo Assurdo Poi Berardi Contro di noi Fa sempre Diventa Messi Contro di noi Berardi Diventa Lionel Messi Stasera c'era Lionel Berardi In campo Bocà Io non Neanche lo descrivo Ormai ragazzi È un top player Bocà E' veramente assurdo Quel giocatore E' assurdo Comunque poi Il 3 a 0 Arriva su Iuricic Su assist di Neanche mi ricordo Ragazzi Veramente Ne abbiamo presi talmente Tanti che oggi Mi ricordo Che ha fatto doppietta Caputo Su assist di Berardi No Assist di Berardi I gol di Iuricic Un fantasma Fantasma 1 Wunder Fantasma 2 Klaivert Hai rotto le scatole Non capisco perché Non ha giocato Perotti Spiegami qui sotto Qualcuno di voi Mi iscrivesse Perché non ha giocato Perotti Stasera ha giocato Quel cadaveri di Klaivert Me lo spiegate perché Me lo spiegate perché Qui sotto Veramente Oggi Veramente Non si salva nessuno L'ho detto Chi si salva stasera Bruno Perez Addirittura ragazzi Bruno Perez Mi è piaciuto Per piacere Bruno Perez C'è qualcosa che non va E Spinazzola Che è uno dei migliori In queste ultime giornate Per il resto Uno scandalo Dzeko Diciamo che Non è stato il peggiore Ecco Poteva far di più Ovviamente Ma è incolpevole Secondo me Perché sono arrivati Praticamente al primo tempo Zero palloni in mezzo Cioè veramente Zero occasioni da rete Ci abbiamo avuto al primo tempo Il secondo tempo Qualche occasioni Comunque il gol L'ha fatto Però Poca roba Anche Dzeko Mi aspettava di più Poi vabbè Lasciamo perdere ragazzi Esce Dopo entra Vilar Che Boh ragazzi Sto Vilar Come lo vedete Io ve ne parlerò Nel calcio mercato Comunque boh Non mi è sembrato Un giocatore adatto Alla serie A Poi magari Mi sbaglio Diventa il nuovo Iniesta Veramente Sassuolo Ma Locatelli Ma quanto è forte Io non me lo ricordavo Così Locatelli Così forte Cioè Ha messo dei palloni in mezzo Manco Iniesta A mettere i palloni così Assurdo Assurdo O Bianca Davanti alla difesa Peggio di Sergio Busquets Veramente Mi sembrava Di vedere il Barcellona Il Barcellona Cioè Secondo voi Era dopato oggi Il Sassuolo Non lo so Tutti dopati Tutti dopati Dalla mediana in su Tutti dopati Oppure i terzini Là Toljan E Cristopo Oculos Veramente Tutti terzini Sembravano Jordi Alba E Dani Alves Del Barcellona Vabbè Senza fare paragoni Del Barcellona Diciamo che il Sassuolo Ha fatto una grandissima partita Ma pure noi Ci abbiamo messo del nostro Per fargli fare Sta partita Perché noi siamo stati imbarazzanti Imbarazzanti Ho detto tutto Il secondo gol Arriva sul calcio Di rigore Appunto Il 3 a 2 Arriva sul calcio Di rigore Di Veretù Che c'era al limite Potevano pure non darcelo Se erano stronzi L'arbitri C'era al limite Fallo di mano Di Boga Però insomma Ci sta Rigore Che trasforma Veretù Che non mi è piaciuto Non mi è piaciuto Oltre che ha segnato Rigore Ma per il resto Non mi è piaciuto Non mi è piaciuto Manco Veretù E poi Dopo Un minuto dopo Dove stavamo con la testa Invece dei caricacce Andai sul 3 a 2 Dai possiamo riprendere Dai possiamo riprendere No No Prendiamo il contropiede E segna Boga Un gol spettacolare Per carità di Dio Ha fatto un gol bellissimo Tiro a giro Con il destro a giro Sotto l'incroci Un applauso per Boga Ma lì veramente L'abbiamo L'abbiamo lasciati ripartire noi Cioè veramente Neanche Lourdes Ci salva Neanche Lourdes Dopo il bellissimo derby Che ho visto settimana scorsa Oggi Veramente inguardabili E niente ragazzi Fatemi sapere la vostra Finisce 4 a 2 Per il Sassuolo Come all'andata Era finita 4 a 2 Per noi E stavolta 4 a 2 Per il Sassuolo Fatemi sapere la vostra Sotto con un commento Lasciate un mi piace Un bel commento Una bella condivisione Iscrivetevi Se siete al canale Se non siete al canale Se ancora non l'avete fatto E azionate Mi raccomando La campanellina Mi raccomando In settimana uscirà Se riesco a farlo uscire Perché in questo momento Sono un po' impicciato Ho dei problemi un po' personali Quindi non so se riesco a registrare Spero di registrare Il paggellone della Roma E niente ragazzi Da qui è tutto E noi come al solito Ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi Sempre e comunque Forza Roma Forza magica Io ci credo Io ci credo Io ci credo Anche se perdiamo Io ci credo Sempre forza Roma Vamos Bella ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.